Diario al Ghierez, di tutto e di me, a voi mostro bene un largo guigliotto. Per sbrugliare la lingua, in un modo di diura, sezza giugge, di un giugge, di meggianfeggia, di un pangiato. Buongiorno e benvenuti a voi, in tutti i fratelli del 2020, saluti a tutti, a voi ascoltarvi. Il santo del Dio, San Pier Damiani, editor dell'Iglesia, nato a Ravenna, verso l'anno 188, di buona famiglia, ma prova. Molto i genitori, quando erano ancora partiti, il Giamman e il grande Damiano diventano il suo tutor, e il, per la conoscenza, ha seguito per il nome del Damiano. Per tutta la vita voleva vivere in solitud, come un eremita pragante e studiante della Sacra Escritura, ma lo Papa Stefano Nou, Lucria Cardinal e Bisba di Ostia. Desprez di tantissime, il Papa razzisce altri anni di dare la dimissione, si torna in solitud, a Marapao solitario di un monastero. Ha scrivito libri, poesie, gli utenti contro la bus, la bus che ufaneva la santità monastica. Mori a Faenza al 1072. Racconti al Garesius del Micalchessa, Luca Rarò di Montanelli, se arriva l'ultima parte del carré di Arduino, entra il carré di Gilbert Ferret, e anche della Misericordia. è il carrerò, mesi astretti dell'Algheveglia, e anche un altro nome, il carré di Pai Algua, Pai Algua perché una volta lì erano le prasolze, dove le detenuzze erano alimentate, ma Pai Algua. Montanelli era una famiglia di artigiani, sassaldotti, proprietari dei terrelli, che abitavano al Carrarò, e qualche ufete, anche il consigliere comunale. Altro abitante famoso era Pantoni, per le sue famose, per le sue pispanti di vita, ma gran trabajore di campagna, era timiti per le cazzutare. Quella della tradizione algaresa, Brignolze di Brera, Ingredienti, Brera, un uo, l'olio, farina, sal, oli di oriva. Sbuggissavo la Brera, posavano da sgotare, després tagliavano la taglia bussinezza, aggiunivano un uo batit, e amascravano. Preparavo la pastetta amara farina, l'olio, una passegara di sal, e aggiunivano a la Brera. Masclavo ben i frigio, a cuglieres d'ori, a nori ben carint. Giozzo di minunia, destensi passats, a set prebas, safeva la conta, e aquell che esciva, posava sota amara faccia, a la paret. L'usato giocaròl, su a la volta di Evan, di a que xus assai da vols, contemporaneamente, senza chi era sota poguessi veura, indicavano de magat, los cos, los bolzones, los baticols, las tiribozas, e las costellas, e tambén basos. La resposta podiva esser, mancú o un número? Se dieva mancú, erano basos, erano basos. Seguiva, lego lego, posa sota, se las ponivano de canto un número, erano basos, no se ne davan, e posava sota un altro. Se sa dieva un número, erano cots, los prenava tots, prova mignó, y a la hora, la lupror de la Madarena. Prantas marasinales, camamilla, camamilla, anitaria, ingredientes, 20 gramas de camamilla, un qualti de agua, es un raméria, per aclarir los cabells, fai un infusso con los ingredientes, filtrau y aplicau los cabells, después, de lo shampoo, por 10 o 15 minutos. Pregarurías, pregarurías y tradiciones religiosas, oración de iranít, a nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, a lítima su colgat, set ángel se trubat, tres aspeus y cuatro de cap, la Vergina María, al mío costate queima Dio, Roma y Raposa, no tenguispor de Maracosa, tres folias de rosa, cuatro de jazmí, l'ángel serafí, l'ángel Gabriel, l'ánima mía, la muntina al cel, yo me colco en sepultura, de Maracosa, no so segura, no so segura de Maracosa, tres gracias, el damaná, confesió, comunió y ori sánt, ano del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Curiositáts de Ángel Scára, un tenzelo caráxario al algué, los años pasados, los múñones sanaban al meso manco todos los calzos, fos de estilo de nivel, al caráxario, se vestían de máscara, pero que se pudían encontrar, una vez, los múñones de calzos, se eran máscarrados, tenían los espéus de luz negra, para ver, que te vayan a la sabbatas, portaban una máscara con la expresión de riura, pero él, la suda de la máscara, pruraba y pruraba, y corriaba también, y después, y ese es el motivo, un hombre le había calzado un peón, una sabbatas farra. El vocabulario de nuestra lengua, cantúves, se escribió quentúpes, y se pronuncia cantúves, patita animal, amatantapeus, que se puede emburicar a la montaña del mateño, viviendo en los húmedos, y tantos amigos de Burich, en la pala marina, de nuestra espalda, y también con esta de la costela. Cistos Agaresios de Cirofada, Rundundum, era el cisto de una donna, que, una donna gran, que tenía en rira cuando se hizo la asociación de ti, cuando escuchaba la misa, murmuraba las respuestas del capagliar, y cuando al paternoster arribaba el pas, adivenia, terrenium, tum, ella salzaba la maltría que tenía, un poco de misa, alzaba la vea y le diceva Aveña, Rundundum, le habían acentado y no le habían entrado en misa. y le habían entrado en misa, Sergio Bolgeri mi ha lasciato proprio a questi giorni passati, nato a Sassar nel 1931 e moro a Sassar nel 2020, con i dati di 89 anni. Chi era Bolgeri? Pintore, restauratore di operazioni, poeta e scrittore. De Giovas afforma la scuola di Padre Lorenzo. Al 1964 prena un diploma in decorazione pintorica nell'Istituto d'Arte di Sassar e ha svolgito attività di didattica nell'Istituto d'Arte al liceo e alla scuola amigiana dell'Aliè. Del 1985 al 1993 ha curato l'immagine grafica della smanifestazione dell'azienda Autonoma Soggiorno e Turismo dell'Aliè. Presenta la RAI con un programma del titolo Impara l'Arte e tanto e tanto altro, tambi a RAI 3. Donz, un artista entra nei posti artistas della pintura salda che pugui vantare una suma di cognizioni, di ampreo, qualsi s'adamanan oltre all'essenziale talento, talento natural, a chi vulgue dignitosamente attraversare i carrioli dell'arte. Un carriera è molto dura, ma Sergio Bolgeri l'ha fatta ma umiltà di orgoglio. Senz'altro, un'uomo che la ghietta di raccoglie e non te di ovviare. Prima di morire, Bolgeri aveva esprimito un dazic. Quando questo mio spirito inquieto avrà raccolto i brandelli di giovinezza lasciati nella tanca fra i rovi gelati dell'inverno e sul profumo dei fiori a primavera, allora, culato dai magici silenzi dell'autunno, rinascerò. Ringrazio di tutti gli ascoltatori di Scobussini e amo svegliere a un altro momento. Ringrazio di Scobussini e amo svegliere a un altro momento.